e la notte è successivo a napoli lazio 33 anni fra 33 anni il giorno dopo tu scusi l'anno scorso è stato un sogno un sogno che quest'anno arriverei quarto continui a imbastare le pizze in Germania no micro o posso dire un po' in inglese che sta con le donne pinzate e imbastare le pizze che è quest'anno quarta e basta fare le pizze, imbastare i gol che ti è buscato e vedi che succede hai capito? imbastare bene le pizze che questa musica non è una cosa che ne prende non è vero il sogno a trattare ogni 40 anni il tossicodipendente è un trucco di 30 anni fa e l'anno scorso che ci sono stati i mondiali di mezzo e vieni da miracolo quello che è questo anno e questo anno giustamente tornerà in dove voi che garsevi per il sogno poi è venuto a coriore vallata davanti è venuto a cinesi a coriore che vi faccio? basta i pizze e buscati fanno un bel vedi fanno un vedi Napoli scrive merda squadra mia di merda Lazio 1,2 così si fa quando pirti e staici e parla di pallone e dici schietta una frega a te quello ci sono le donne qua avanti dietro e tu e tu che mi chiedi basta i pizze cioè all'ora ma che buono che buono abbiamo visto certevidi abbiamo visto quella allora e che fu allora è uscito tutto vabbè non penso vabbè a Milano Durante il gol della Lazio abbiamo visto delle belle cose bellissimo come è stato brutto da carretto questo vabbè lo sapete anche voi 33 anni adesso quando avrete 90 anni vedete il prossimo i campioni di dà ragazzi va su uno dell'anno scorso eppure qui sta in casa siamo in serio, si arriva facciamo sempre scherzetti ma non poteva perdere tre partite ragazzi era chiarissimo che non potesse perdere tre partite se perdeva pure questo lo cacciavano quindi diciamo che se l'Inter vince con la Fiorentina e poi battiamo il Milan l'Inter vince lo scudetto tanto che tu pulitei tre scudetto da tre scindanti quella che ha facendo Mazzari vedi che bello paese che voglio portare anime 400 anime 400 buona e non fa niente soffile sbirro io una cosa che non mi piace hanno fatto un minuto di raccoglimento per quei poverini che sono morti sotto il treno ma non hanno fatto nulla non hanno fatto nulla con i cittadini che sono scarlati c'è roba da vergogna non avete fatto il minuto di raccoglimento e poi fanno i mafiosi i mafiosi ma al di là di questo al di là di questo faccio di certi fucuracci faccio come città proprio non meritano niente niente di Foggia ma la Foggia non c'è la tabaccaia qua è pure buona la pizza solo che è piccola questo anno è giacchia di cappotto questi assetti cittadini mi va andando a dire ma fa che andavo a fare è certo come? ti dici? eeeh quest'anno è buscato si guarda la vita che ha fatto cose ahah però io voglio a vedere c'è un amico mio Luca Rabuani che lo sa lui che l'anno scorso ieri mi ha fatturato una donazione diciamo lo rispetto no 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 lo rispetto perché è ritorno siccome io sono mancato 15 giorni allora ha detto giustamente ha detto ma sei mancato la Youtube la piattaforma e vabbè vabbè morto un pub se ne fa una no non è vero non è vero non è vero perché la donna d'inglese fa molto ecco ma che sedere buono ciao il pub è questo e beh cerca il parcheggio no non è questo è quello lì si sale sopra a piedi ma trovo posti a piedi sopra a piedi sopra a piedi sopra si madonna senti ma qua puoi un parcheggio e non lo so si ma il parcheggio è qua non lo so ma il parcheggio è qua upa bella ue ah ok e quindi qua siamo siamo in provincia di Avellina abbiamo potuto fortuna a Napoli in campo eheheheh parcheggio trova il parcheggio qua vedi un po' là che comunque a piedi si va sopra ma ma dove? è la sopra ma 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 su un campanino no 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 ma è in buscato qua re no qua su qua ma che da se trovare la del parcheggio comunque ha perso un apolo ahahahah ahahah ahahah non è giuventino lui è giuventino lui è giuventino ahahah siamo arrivati siamo arrivati fa un freddo boia portate io ma che portate? che fammi da portare? eeeh va bene non è tanto freddo nooo sei 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 in meno a 700 metri ahahah 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 cioè dove siamo? siamo in campagna siamo in campagna siamo nel paese siamo a Napoli paese dei soli paese dei campioni d'Italia ahahahahah ahahahahah ahahah 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 che stasera ma fazzire se quando quando uno da fai vedi conto da buscato che ha niente che ha niente quando vedi che fai perde una partita quest'anno ti ha sfragato ahahah 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 ma che freddo e dai devi esagerare che freddo io fai freddo no 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 ciao amore fai un bacio moto ahah andiamo dobbiamo andare di là sta pure il padre figlio che ci guarda uuuuuh ci protegge almeno si ci pura la fontina ecologica tutte le lacrime di Napoletano ahahahahah ahahah ahahah di qua attenzione perché si faranno delle scale è lì è lì no mi dà un po' ora posso mettere un abbraccio sì mi abbraccio su andiamo saluto i napoletani sì ci sono non 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 che che in gianca dove che dove vengare qui vengare 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 posso anche ne so è così si mi hanno buscato è quello aspi oi da qua voglio ma che anni è buona notte